Salvemini balla e noi adoriamo gli uomini che vivono. Ecco questo il nostro pensiero. Abbiamo scelto di pubblicare il video del sindaco di Lecce che balla durante il ricevimento di un matrimonio. Abbiamo trovato quel video bellissimo. Crediamo che in un mondo nel quale anche nel privato si preferisce spesso fingere, indossare maschere e guardare gli altri per poi commentare, trovare chi vive e lo fa a modo suo nella libertà del proprio privato sia spesso una rarità e merita risalto. Ricordiamo che chiunque ricopre un ruolo pubblico è pur sempre un uomo e per questo è libero di esprimersi nel rispetto degli altri così come crede. Salvemini lo sa bene, spesso lo abbiamo criticato da giornalisti e cittadini. Abbiamo criticato le sue scelte, ma da giornalisti e da cittadini crediamo che una volta tolta la fascia e fuori dai contesti istituzionali, Salvemini si è legittimato a divertirsi. E non diciamo come meglio crede perché non occorre nessuna difesa d'ufficio, diciamo semplicemente divertirsi. Troviamo folle, insensati, perfidi ed invidiosi i commenti che leggiamo a corredo del video. Ci sono persone che sanno ancora sorridere, respirare a pieni polmoni e ballare. Carlo Salvemini lo sa fare, altri no. Questioni di scelte, ma non può essere sempre il sindaco il bersaglio di inutili attacchi, come in questo caso. Detto ciò, che dire? Chi lo sa fare, balli sul mondo. E tu, Salvemini, da uomo, balla come vuoi. Da sindaco no, ma quella è un'altra storia.